Non possiamo pretendere di difendere in quel modo come i primi cinque minuti, anzi per i primi sei. Siamo stati davvero imbarazzanti. Imbarazzanti perché comunque siamo una squadra pesante e ogni volta che incontriamo queste squadre atipiche che addirittura a un certo punto ci giocano con righetti da cinque e ovviamente ci costringono a stravolgere completamente l'assetto tattico della squadra. Facciamo fatica a utilizzare i giocatori che magari in difesa per noi sono un po' più importanti e quindi la partita cambia completamente. Però tanto di cappello ai ragazzi perché come li ho ripresi pesantemente nel primo time out dopo sei minuti, devo essere sincero, hanno fatto un ultimo quarto mostruoso a livello di intensità. Mi dicono che quando uno parla male degli arbitri è perché vince, no è perché perde. Quindi oggi che ho vinto non parlo male degli arbitri e non sono assolutamente d'accordo che le due squadre siano state penalizzate nello stesso modo perché la palla canestro è fatta di tanti piccoli particolari anche e soprattutto difensivi a un certo livello. E quando noi facciamo delle scelte difensive che vengono penalizzate dal non rispetto del regolamento sui pick and roll, noi siamo penalizzati. E il primo tempo purtroppo abbiamo subito tanto il fatto di non aver fischiato a favore neanche un blocco in movimento, cosa che invece secondo me più di una volta poteva, però ripeto, non scrivete perché avevo detto che non volevo parlarne, poi alla fine è difficile. Ecco, io credo che la partita, sì, ma non solo, ma il problema sono i metri, io discuto non il fatto dei tecnici perché se l'arbitro decide di mettere la partita in quel binario io lo accetto, però poi dopo bisogna essere coerenti nel metro perché io non posso vedere che a Stani ci viene fischiato un fallo di simulazione nell'uno contro uno spalle a Righetti e poi dopo dall'altra parte a noi ci fischiano fallo in attacco e poi dopo la terza azione di nuovo fallo contro a noi, allora questa cosa io non ci sto più. Oppure Ponziani perché è il ragazzino di turno e mi dispiace con tutto il cuore perché gli stavo per dare anche oggi di nuovo fiducia perché se la merita, entra e lui sbaglia perché ha degli atteggiamenti che alla sua età non deve avere, si mette la mano nei capelli, gli fischiano tecnico e poi dopo ha al decantato come si chiama Troiani, stesso gesto di stizza e invece il tecnico non lo prende. Allora su queste cose io non ci sto. Poi l'arbitro può sbagliare come sbaglio dalla panchina, come sbaglia un giocatore un appoggio facile, però deve avere lo stesso metro. Secondo me stasera lo stesso metro non c'è stato. Ripeto, noi abbiamo affrontato fino ad oggi delle squadre molto difficili per noi perché siamo una squadra pesante, abbiamo giocato con squadre che ci attaccano con quattro piccoli dal perimetro, a un certo punto addirittura in campo avevamo Rosignoli che difendeva su Staffieri, per cui ci sono una serie di problematiche che chiaramente con certi tipi di squadra noi subiamo. Però questa sera faccio veramente i complimenti ai ragazzi perché l'ultimo quarto soprattutto a livello di situazioni di picche e roll su Righetti, anche perché Righetti aveva fatto quattro su cinque da tre punti nel primo tempo, ha chiuso con quattro su sette, quindi non ha fatto più un canestro. Noi chiaramente prepariamo sempre l'adopzione perché se non funziona la prima abbiamo sempre la seconda pronta. Ti ripeto, secondo me poteva pagare anche la scelta che avevamo fatto nel primo tempo, però ogni volta rimanevamo incastrati sui blocchi perché il loro lungo si muoveva in anticipo rispetto al passaggio del difensore e quello è fallo in attacco. Se parliamo di tecnica difensiva io penso che bisogna conoscerla tutti a tecnica difensiva perché altrimenti la squadra che prende un vantaggio lo amplifica in modo illegale. Poi è chiaro che nel momento in cui ho capito che la partita era persa a livello di cercare di farlo in attacco, farlo in attacco, farlo in attacco, allora chiaramente abbiamo fatto l'opzione 2 che tutto sommato è anche andata meglio. Però ripeto, vi faccio una preghiera, mi sono sfogato ma lasciate stare, non è mia intenzione, dopo parlerà a lui se vuole, non è mia intenzione parlare di arbitraggio. Io volevo rimarcare il quarto quarto dei ragazzi che hanno concesso solo 7 punti e mi sembra anche forse qualcuno anche su tiro libero per i vari tecnici. Quindi un grandissimo quarto quarto a livello difensivo e poi abbiamo confermato un pochettino a sprazzi le buone impressioni domenica scorsa a livello d'attacco. Ci abbiamo avuto 2-3 minuti dove non abbiamo più giocato insieme e abbiamo cambiato poco lato alla palla e abbiamo tirato a frettato. Però insomma mi auguro che si sciolgano perché sono ragazzi che durante l'allenamento, durante la settimana, fanno delle cose impressionanti. Sicuramente è un problema di freno tirato quando arriva la domenica. Oltre chiaramente intanto ai meriti degli avversari che vanno riconosciuti perché comunque l'Eurobasket ha fatto una partita a testa alta senza nulla da perdere e in più anche alle tipologie di squadra che abbiamo incontrato perché obiettivamente sono tutte squadre che ti lasciano senza punti di riferimento e ci costringono a giocare con assetti tattici che obiettivamente non sono quelli che in questo momento io pensavo di utilizzare.